Noi, dopo i primi ospiti, il secondo ospite, il maestro Daniele Sepe. Grazie di essere venuto. Posso vedere lo strumento? Un brano dedicato a Napoli. Vorrei che voi fate un bell'applauso a questi ragazzi, perché sono bravissimi. Veramente. Un bravo a Palessandro Varende, perché sono... Non so quanti anni... ...e dedica la vita a questo strumento popolare, che fa parte della nostra storia e che oggi viene suonato anche in maniera diversa. Lui ha cresciuto un bel po' di bravissimi solisti di questo strumento. Per cui, bravo a Palessandro.